A questo si aggiunge una legislazione di sostegno ai partiti che fa vergogna. Io sono stato il relatore del famoso decreto che Scaffaro poi non vuole firmare sul finanziamento dei partiti. Sì, beh, spero che Scaffaro adesso sia vendito, perché a una certa età è bene anche vendirsi, perché prima o poi il principale chiede conto. Ma la legge di sostegno dei partiti al ponente in vigore è una cosa spaventosa, anche perché prescinde completamente da una valutazione della democraticità degli ordinamenti interi.